E sul mancato trasferimento dei fondi regionali al Teatro Maruccino di Chieti e sulla sua possibile chiusura proprio nell'anno del bicentenario che si concentra la campagna elettorale e la polemica politica regionale. La conferenza stampa del sindaco di Chieti Umberto Di Primio, assieme al presidente del CDA della deputazione Sicari, che ha ventilato le sue dimissioni, ha suscitato la reazione sdegnata del Partito Democratico di Chieti, che difende l'operato della regione e ricorda la delibera che agosto ha stanziato oltre 200.000 euro per il Teatro Teatino. Luigi Febo, consigliere comunale dell'EPD, rilancia la palla nel campo del centrodestra chiamando in causa proprio il sindaco Di Primio e la sua amministrazione comunale. I soldi ci sono, sono stati stanziati come promessa all'organo politico l'8 di agosto, una delibera di giunta regionale, in cui stanziavano 275 in una linea e altri 25 circa in un'altra linea, quindi 300.000 euro per la finalità specifica del bicentenario del Teatro Maruccino. La stagione del Maruccino a rischio? Io penso di no, la stagione del Maruccino da anni ormai vive una situazione di leggerezza, diciamo così, verso la città per i pochissime risorse che l'ente ci mette, perché io voglio sempre ricordare che il Teatro Maruccino è di fatto una struttura dell'ente comune di Chieti, dove il comune ogni anno mette delle risorse minime. Attacca Di Primio anche Chiara Zappalorto, la città, dice la coordinatrice provinciale dei Democratici, non può permettersi un sindaco di missionario. Di Primio chiarisca cosa vuole fare, continua la Zappalorto, che lancia un appello ai consiglieri di maggioranza. Chiedere loro di chiedere chiarezza nella loro maggioranza, perché una città come la nostra che sta vivendo anche dei momenti particolari, delicati, per tanti motivi, non può avere un sindaco che è legato al destino di un sindaco per altri dieci giorni. Per il Teatro Maruccino servono circa 500 mila euro, che attualmente non ci sono. La Lega, con il coordinatore regionale Bellachioma, attacca puntando il dito contro la non curanza della regione. Si tratta dell'ennesima mossa programmata per declassare la città di Chieti, tuona Bellachioma. Gli fa eco Fabrizio Di Stefano, che per sabato prossimo ha programmato una manifestazione di protesta. Il bilancio si fa a novembre e si attua dal primo gennaio. Bisogna arrivare al 25 settembre per chiedersi che fine hanno fatto quei soldi e il PD ha fatto uno scempio di tutti i settori della nostra regione e sulla cultura ha fatto disastri. Un tempo il PD si riempiva la bocca della parola cultura. Oggi dica che cosa vuol fare, che cosa ha fatto e che cosa farà. Al più presto faccia uscire quelle risorse. Se hanno fatto quella delibera ad agosto, penso che è ancora più vergognoso che dopo un mese non se ne abbia traccia.